Tutte cose della intro ragazzi e ragazze bestie di YouTube Italia Oggi siamo qui su questo video, questo tutorial Minecraft Bedrock Che quindi funziona soltanto sulla versione Bedrock di Minecraft per PC E sulle versioni console sia Sony che Xbox che Nintendo del gioco Quindi non funziona su Java, non me lo chiedete altrimenti vi banno Come avrete sicuramente letto da titolo andremo a fare una farm per ottenere la Bedrock E andremo anche a scoprire un nuovo glitch di duplicazione Che vi permetterà di duplicare e di ottenere la Bedrock in maniera più efficiente Quindi vi basta usare questa farm 1 o 2 volte e poi potrete duplicarla molto più velocemente Oppure potrete anche duplicare qualsiasi altro oggetto vi vogliate Andando quindi a duplicare magari Shulker Box, Sabbie, TNT Insomma tutti quegli oggetti che su Java sono molto facili da ottenere Perché ci sono delle ottime farm Ma su Bedrock non possono essere ottenuti con questa facilità Nonostante siano degli oggetti fondamentali Il creatore originale di questa farm di Bedrock è C-Max Ovviamente trovate il suo video originale in descrizione Mentre invece il glitch non sono riuscito a trovare in realtà Chi l'abbia fatto per primo Ho visto che in Italia già anche Tech4Blade ha portato questo glitch Però all'estero non ho visto chi altro l'ha fatto Ci sono veramente una maria di gente Non sono riuscito a trovare il creatore originale di questo glitch Quindi se lo sapete scrivetelo sotto nei commenti Questa farm si basa su una meccanica veramente molto interessante Presente soltanto su Minecraft Bedrock Edition Ovvero come sappiamo tutti quanti L'endcrystal può essere posizionato soltanto su Bedrock o Ossidiana Una cosa interessante è che questi endcrystal però possono essere spostati E possono essere spostati sopra qualsiasi blocco come vedete Questa cosa è dannatamente interessante Come vedete qui non c'è più l'Ossidiana o la Bedrock Possiamo addirittura rimuovere il blocco Questo è molto interessante perché se qui davanti avessimo un qualunque blocco E noi andassimo a spostare questo endcrystal In seguito ad aver sloggato dal gioco Di rientrare E rompere per l'appunto i blocchi davanti a lui Questo glitch è molto comodo Fino adesso è stato generalmente utilizzato O per rompere la Bedrock attorno al portale Per andare a fare delle cose estetiche Oppure per andare a rompere i gate delle endcity Come ad esempio quello lì e custodire delle farm Noi oggi lo utilizzeremo per fare una farm di Bedrock Quindi il principio come avete visto è molto semplice Semplicemente basta mettere il blocco Far partire il pistone una volta Uscire dal gioco Spostare questo endcrystal E una volta che rientreremo potremo effettivamente rompere i blocchi E curioso e in pochissime parole questo è il funzionamento della farm Detto quindi questo vi lascio subito il tutorial Questa è la lista degli oggetti che vi serviranno Anzitutto vi consiglio di portarvi dietro Moltissimi pistoni, redstone e soprattutto gli endcrystal Che sono ciò che consumerete di più in assoluto Ma anche i pulsanti e tnt Questo perché sì per costruire la nostra farm Servono questi item qua nella prima riga Ma dato che dobbiamo far esplodere tutto quanto Molti di questi verranno persi Inoltre un'altra cosa che vi servirà sarà la locator map Questo perché siamo costretti a costruire la farm Da nord verso sud Oppure da ovest verso est In questo video andremo a costruire la verso est Quindi se con il nostro indicatore sulla locator map Puntiamo verso l'alto Vuol dire che stiamo puntando nord Quello che faremo noi sarà girarci verso sinistra In modo da puntare verso ovest Inoltre io qua sotto ho rotto molti più blocchi Rispetto a quelli che servono Ciò per far sì che sia più facile per voi vedere il tutorial Un altro consiglio che vi do è che prima di far partire la farm Ricordatevi sempre di guardare il tutorial due o tre volte In modo da essere sicuri di aver fatto tutto giusto Perché ci sarà da fare delle cose molto velocemente E se si sbaglia c'è il rischio che spawni l'ender dragon Infine prima di iniziare la costruzione della farm Voglio ricordarvi che il creatore originale di questa è C-Max E lascerò ovviamente il suo video originale in descrizione Quindi la prima cosa che dobbiamo fare È andare a cercare il lato ovest della nostra farm Che è questo qui Ce lo segniamo con dei blocchi in questa maniera Ora ci mettiamo con questi blocchi Questo segno alla nostra sinistra E iniziamo a costruire la farm Per prima cosa cerchiamo il punto centrale della fontana Sarà molto semplice perché si troverà a coordinate 0-0 E andiamo a mettere un blocco temporaneo qua sotto Con tre blocchi d'ossidiana in questa posizione qui E un altro blocco in questa posizione qui Poi ne mettiamo un altro qui davanti In questa maniera qui Andiamo a mettere due blocchi temporanei E sotto andiamo a mettere tre pezzi di ossidiana E un quarto pezzo d'ossidiana in questa maniera qui Quindi la vostra farm dovrà essere rivolta in questa maniera Rispetto all'indicazione del lato ovest Che ci siamo segnati prima Poi andiamo a mettere un blocco d'ossidiana qui sotto Altri due blocchi in questa posizione qui Blocco temporaneo e altro ossidiana Sull'ossidiana andremo a mettere tutti quanti i nostri circuiti Quindi per ora potrebbe sembrare che non abbia senso Ma lo avrà tra poco E ora andiamo a mettere tre blocchi temporanei qua sotto Questi blocchi temporanei ci servono per poter utilizzare La meccanica peculiare degli end crystal Ora arriva la parte divertente Andiamo a mettere due pistoni normali in questa posizione qui E mettiamo il nostro pulsante Ora mettiamo un end crystal Fate attenzione a non toccarlo se no schioppa tutto quanto Cosa bisogna fare? Bisogna rompere il portale adesso Quindi noi andremo a premere questo pulsante Ma come vedete non si è rotto nulla Per qualche motivo il gioco ci richiede di uscire dal mondo E di rientrare In questa maniera quel blocco di bedrock non ci sarà più Adesso noi andiamo a rispingerlo E come vedete a sto giro ha funzionato Quindi prendiamo il nostro pulsante Lo mettiamo qui dietro e spingiamo in questa maniera Mettiamo un blocco temporaneo qui E spingiamo di nuovo in questa maniera qui Poi spingiamo in avanti questo Poi spingiamo di nuovo in avanti questo qui E spingiamo di nuovo in avanti questo Una volta che sarete arrivati a questa situazione qui Andiamo a rompere tutta questa roba qua E da molto lontano Possibilmente fatelo con un arco Rompete anche questo end crystal In questa maniera avremmo rotto il nostro portale Ovviamente questo trucchetto qua potete anche utilizzarlo Per fare delle cose estetiche Ora se qui è rimasto il blocco temporaneo che sia endstone che sia un blocco temporaneo che avete messo voi in questa posizione qua Toglietelo pure E andate a mettere un'altra end crystal qui Fatto ciò dovremmo fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima per liberare questi tre blocchi di bedrock Quindi andiamo a mettere doppio pistone in questa maniera qui Spingiamo una volta Non possiamo spingerlo quindi dobbiamo sloggare via dal gioco Riloghiamo di nuovo E fatto ciò potremmo spingerlo di nuovo in questa maniera qui Quindi spingiamo lui Mi raccomando quando siete in questa situazione qui spingete sempre prima questo pistone qui Se per caso avete magari sbagliato qualcosa Avete quindi ritolto l'end crystal E ritolto questa roba qua E avete ricominciato a rompere la bedrock dall'inizio da qui Il primo blocco di bedrock che incontrerete non ve lo farà rompere Quindi anche in quel caso dovrete sloggare e riloghare Fatto ciò spostiamo tutto quanto lentamente In questa maniera qui Fino ad arrivare qui Una volta che sarete arrivati a questo punto qui Dovrete andare a spingere di nuovo l'end crystal con questo pistone qui In modo da metterlo soltanto su questo blocco Perché altrimenti sarebbe rimasto a metà essendo l'end crystal un'entità e non un blocco Ora andiamo a rimuovere questi pistoni e questi blocchi temporanei Sostituiamo questi due blocchi con due blocchi d'ossidiana temporanea E andiamo a mettere gli altri due end crystal Rompiamo questi tre blocchi Facendo sempre molta attenzione a non rompere gli end crystal E ci troviamo quindi in questa situazione qui Ora arriva la parte decisamente divertente Andiamo a mettere quattro pezzi di redstone in questa posizione qui Qui ci mettiamo un pulsante Qui andiamo a mettere i nostri pistoni in questa maniera qui Qui andiamo a mettere la TNT con un altro pulsante E qua andiamo a mettere i nostri pistoni con un altro pulsante qua E con la redstone in questa posizione qui Adesso cosa succederà? Ascoltatemi bene perché se sbagliate rievocate il drago e sono cazzi vostri In ordine andremo a mettere gli end crystal qua sopra E il drago spawnerà Succederà che il portale dell'end si andrà a rigenerare Noi andremo a premere questo pulsante qui Questo pulsante qua E infine questo pulsante qui Cosa succederà? Succederà che premendo questo pulsante qui Andremo a rompere di nuovo questa bedrock qui Perché sposteremo questi end crystal Poi andremo a spostare gli end crystal all'interno del mezzo blocco di portale E con la endstone che si andrà a rigenerare qua E infine facendo saltare in aria la TNT romperemo la bedrock Pronti? Uno Due Tre Ok Uno Due E tre Ok E esploso tutto Come vedete qui la bedrock manca Il drago non è stato evocato perché facendo esplodere tutto quanto si è interrotta l'animazione E si sono rotti anche questi pezzi di portale Quando è così vuol dire che il glitch ha funzionato Ma non è comunque detto che riceviate il pezzo di bedrock Potete ottenerne uno, due o tre In questo caso ok Io ne ho ottenuto soltanto uno Sono stato fortunato Perché succede questo? Allora può capitare che il glitch non funzioni In quel caso avrete il portale completamente intatto Ok? Quindi con questi tre pezzi di bedrock al loro posto Quando succede così? Quindi quando il glitch funziona ma non ottenete il pezzo di bedrock Le opzioni sono due O la TNT l'ha distrutto Perché purtroppo su bedrock edition non è come su java E la TNT non vi restituisce indietro tutti i blocchi che distrugge Oppure l'altra opzione è che il pezzo di bedrock sia entrato all'interno del portale del land E di conseguenza ci sia Non sia stato distrutto ma si trovi nel chunk di spawn del vostro mondo Le opzioni sono queste Non sempre riesce il glitch C'è comunque una probabilità molto alta che funzioni È un glitch abbastanza affidabile Comunque ora che avete ottenuto il vostro pezzo di bedrock Andiamo a vedere come duplicarlo Perché come detto questo glitch non sempre funziona E come avete visto è anche un glitch molto dispendioso dal punto di vista dei materiali Ah una cosa che mi sono dimenticato di dire durante il tutorial Il glitch per l'ottenimento della bedrock funziona anche sui server Mentre invece il glitch di duplicazione che vi farò vedere Non funziona sui server Quindi noi abbiamo il nostro preziosissimo pezzo di bedrock nell'inventario Vediamo come duplicarlo in una maniera estremamente semplice e sicura E io stesso mi sono stupito del fatto che questo glitch funzioni perché Vedendolo sembra una cagata Però funziona Ci servirà soltanto dell'ossidiana per farci un portale del nether Una flinta in stile, un acciarino per accenderlo E una cassa Cioè non so neanche preparare il set perché capite bene che sono tale robe semplicissime Andiamo a crearci un portale del nether Completo perché non siamo poveri Lo accendiamo E entriamo nel nether Molto semplicemente Adesso qua si genererà per la prima volta Quindi siamo entrati nel nether Cosa facciamo adesso? Piazziamo la nostra cassa Abbiamo il nostro blocco nell'inventario E usciamo salvando il gioco Quindi usciamo dal nostro mondo salvando il gioco Rientriamo dentro Mettiamo il pezzo di bedrock nella cassa In questa maniera qui Entriamo nel portale E come vediamo l'overworld Chiudiamo forzatamente il gioco Quindi da computer e alt f4 In questa maniera qui E poi andiamo a riaprire il gioco Riapriamo il gioco in questa maniera qui E oh si che ha funzionato Se vi trovate l'oggetto che volete duplicare Nell'inventario E anche nella cassa Perché ha funzionato Come vedete Questo glitch è veramente molto figo E molto funzionale Perché vi permette veramente Di duplicare qualunque cosa Ovviamente non sempre funziona al primo colpo Ovviamente duplicando sempre la roba All'inizio un blocco solo Poi sarà due Poi sarà quattro Capite bene che duplicando sempre i blocchi Diventa veramente tanto in poco tempo Quindi se questo tutorial Per ottenere e duplicare la bedrock Vi è piaciuto Vi ricordo di iscrivervi al mio canale Di attivare la campanellina delle notifiche Soltanto il 20% di chi vede i video E iscritte soltanto il 20% Degli iscritti alla campanellina attiva Se vi iscriveste E attivaste la campanellina Mi aiutereste veramente tantissimo A crescere davvero molto velocemente Vi ricordo anche di mettere like Commentare e condividere il video Con tutti i vostri amici Vi ricordo anche di passare da Telegram Instagram e TikTok Dove al pubblico contenuti Giornalievi Trovate tutti i link in descrizione Vi ricordo infine di pregare la betula E tanti saluti E tanti saluti